E' ed eccoci qua da Eugenio, cattivo o buono? Ovviamente, questo. Eugenio apri sono io! Ehi, Delsin! Ciao Eugenio! Sì, sono pronto. Facciamo casino. Beh no, tu fai casino, io resto nell'ombra. Sei furtivo. Furtivo! Già, furtivo. Non mi sembra molto... Sai, tutti quei presunti bioterroristi che abbiamo liberato dal T.O.P.? A me sembra che la squadra di salvataggio fosse composta da un solo membro, ma continuo. E' venuto fuori che la gang di Acula gli ha radunati e passati in un cantiere qui vicino. Stanno pensando di rivendermi al T.O.P. E perché non andiamo noi a prenderli? Non preoccuparti, sto mandando i miei amici lì da te. Per amici intendi un esercito di Arcangeli e non Melvin e Lenny del tuo gruppo di D&D, spero. No, no. Sono serio, dattimo una svegliata. Allora, aspetta che intanto faccio fuori i venditori di droga. Ecco qua. La spada è veramente lenta, per carità, potente quanto vuoi. Ma mannai a loro è lenta. Ecco fatto. Grazie. E anche per questo, altro frammento gratuito. Grazie. Ma guarda un po'. Ci sono un bel po' di aculani là sotto. Eh vabbè, andiamo a fare a botte. Ok, ci sono. E i tuoi amici? Stanno arrivando. Intanto dai un'occhiata all'interno del cantiere. Hanno qualche difficoltà negli spazi chiusi. Gli angeli sono claustrofobici. Ebbè. Grandioso. C'è altro che dovrei sapere. Che non sono un granché neanche in acqua. Beh, siamo due. Ecco qua. Ed ecco due. Ed ecco tre. Hai visto che bravura? Uno. E due. Potere d'attacco fighissimo. E stelta manetta. Praticamente è un ladro. Ecco fatto. Vieni qui. Hai visto che facilità? Piano per piano ce li facciamo tutti. Edificio in costruzione. Devi indossare un elmetto. Vieni. Addio. Madonna mia se vi sfondo a tutti facile e facile. Mallevati va. Minchia due per uno. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni. Ecco qua. Vieni anche tu. Mallevate. E' praticamente un paladino ladro. Con le abilità magiche di evocazione. Ecco fatto. Ma vai via. Ce n'è ancora uno. Non ce n'è più nessuno. Ok. Dove si trova l'obiettivo della missione? Cerca ancora. Perché no? Visto che sono qui. Ecco qua. Vediamo un'altra X. Due andati. Beh, manca ancora uno allora. Terzo piano. Eccola qua. Niente. Eccolani sono bravi a nascondere la gente. Oh, aspetta. Sento degli elicotteri. Sali sul tetto. Gli elicotteri del TUP stanno prelevando dei container lassù. I container... Mannaggia. No, vedi i miei angeli. Vero loro di tenere gli elicotteri a una di salta tale da permetterti di saltare sui container. Eh. Certo. Saltiamo su dei container che si muovono a quattro piani da terra. Vedi... È questo il genere di buggy che ti mancano quando resti nell'ombra. No. Quando sei su un container rompi l'argano che lo collega agli elicotteri. I miei angeli li prenderanno... Sono un figo, non sono un pazzo. Eccomi qua. State pronti, angeli. Ne mancano altri. Salta su un container, eh. La fai facile tu, eh. Portatemelo qua. Eh, non ci arriverò mai. A meno che... Ecco qua, bravi che l'avete... Oh, sto surfando un container, Eugene. Abbassato. Sgancialo dall'elicottero, eh. Continuate a farla facile voi. Prima di tutto ci devo arrivare. Ecco qua. Dai che ci arriviamo a sto giro. No, non ci arrivo. Ho bisogno del potenziamento per potermi spostare. Dov'è? Eccolo. Abbassatemelo. Bravi. Guarda lì, prendete. Da. Anche io che ci ho provato, eh, però. L'ultimo... È là sopra. Ancora un po'. Abbassatemelo. Eh, non ci arrivo. A meno che... Eccoci qua. Fatto. E... Pow! Troppo potenza. Vieni qua tu? Addio. Eccolo lì, l'altro elicottero. Ecco qua un altro nucleo. Vediamo se mi basta per prendere qualche potenziamento. Slancio doppio. Molto utile. Dove sei? Eccoti qua. Però non voglio... Staiuzzarmi... Con le eliche. Ecco fatto. E quello era l'ultimo. Meno male. E io che devo fare? Si trova a terra al Denny Park. Il DUP sta convergendo in zona. Non lasciare che prendano i cockpit. Ecco fatto. Aspetta. E... Kabum! E addio al tizio pericoloso. Aspetta. Devo... Riuscire a spostarmi e mettermi qui. Da questa posizione ne prendiamo un bel po', mi sa. E... Kabum! Vediamo. Morti? Beh, un bel po' di sicuro. Neanche troppi. Speravo molti di più, onestamente, eh. Lo prendo. Preso, l'ho preso. Fatto danno. Neanche troppo. È morto. Colpito. Non vedo. Eccoci qua. Vieni, 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 vieni. Prendi, 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 prendi. Vabbè, non importa. Vabbè, anche... Così. No, quello lì. Questi sono brutti. Non puoi mandarmi a altri angeli? Sì, ma potrebbe volerci un po'. No, non ce l'ho. Mi servono al massimo nel giro di due minuti. No, 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 no. Non è così. Che doveva andare? Non puoi non andare proprio adesso. Io... Io non... Non ce la faccio più. Eugene, fai un bel respiro. Eugene! Dov'è? Eugene! Ti prego, dimmi che non mi hai abbandonato sull'altare. Allora, uno è andato. Sto per finire i colpi. Sono colui che scende dai cieli. Eugene, amico, ti prego, dimmi che sei tu. Eccolo lì. Ragazzi, credo proprio che non vi piacerà. Allora. Ok, angioletto. Ecco fatto. Stancati per bene. Ehi, quando sarà tutto finito, mi insegni come si fa? Tu non sei degno! Trasformi in angelo, sei proprio stronzo. Fermo, fermo, che lo prendo. Ecco qua. Così mi ricarico anche io un po'. Prendilo! Prendilo! Ecco fatto. E quando ti trasformi diventi stronzo. Prendilo! Bravo! Così mi ricarico un pochino anche io i colpi. Che cibo? Andati! Perfetto! Missione compiuta! Hai deciso di tuffarti nel mondo reale. Già, mi hai convinto. La gente si merita una possibilità. Giusto e a nome di questa gente... Ti ringraziamo. Già. Beh, se mi dovessero deludere ancora, farò piovere un po' d'inferno. Vola, ragazzo. Vola, ragazzo. Beh, questo sì che è un bel commento. Bravo. Vediamo. Potenziamenti disponibili? Uno. Eh. Oh, posso fare... Questo. Era da un po' che non ne facevo, dai. È da quando siamo andati in vacanza che non facevo più... Un graffito. Ecco qua. Perfetto. Nero? Nero, perfetto. Ecco. A te. E via. Blu? O finisci tu? No, un po' di blu. Ecco fatto. C'è una foglia qui. A posto? Direi di sì. Vai. Gli ultimi tocchi sono i tuoi. Ci avrei messo del giallo? Un uomo? Un'idea? E una bomboletta frai. No, altro nero e altro blu. Certo che potevi farteli anche tu, e non è che hai aggiunto chissà cosa. Altro nucleo. Grazie. Altro graffito. Jackpot. Nero. Ecco qua. Ah, questo me lo ricordo. È l'ATM che spara un sacco di soldi fuori. Ecco qua. E ora. Bianco. Sta arrivando il DUP lì di lato, eh. Però mi sa che mentre siamo in modalità graffiti non mi vedono. Va che bello. Questo è bello, dai. Blu? Sì. Ecco qua. Il resto ci pensi tu? Sì, l'hai reso un po' più bello. Bravissimo. Delsin, sei vicino a una TV? Come sempre. Non ancora. I TG parlavano di un'esplosione alla torre, ma hanno subito smentito. Cerca un buon punto di osservazione e indaga. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.